Per quale ragione i politici non pensano ai bambini? Abbiamo da poco archiviato la campagna elettorale per le nazionali e per le regionali. Tante le promesse dei politici, personalmente credo che già se ne siano in parte dimenticati, ma nessuno ha parlato di bambini, di iniziative da avviare, di politiche da attuare a sostegno delle famiglie, di progetti da realizzare nel prossimo futuro per creare luoghi più a misura di bambino. La politica è fatta da adulti che discutono e affrontano temi che riguardano solo altri adulti. Il risultato di questo tipo di scelta è sotto gli occhi di tutti. Non ci sono spazi per i bambini, non ci sono percorsi a loro dedicati, mi riferisco a piste ciclabili o di pattinaggio, campi da gioco o parchi pubblici o più semplicemente luoghi dove i più piccoli possono trascorrere serenamente qualche ora all'area aperta, senza per questo dover correre dei rischi, senza necessariamente dover fare i conti con auto e moto che sfrecciano pericolosamente. I parchi pubblici versano in uno stato di degrado assoluto, il verde è praticamente inesistente, di piste ciclabili neanche l'ombra, di iniziative che mettano al centro i bisogni dei bambini se ne contano pochissime. Un paese moderno, un paese civile dovrebbe mettere al primo posto le esigenze dei bambini. La vivibilità di una città, di una provincia si misura anche attraverso l'attenzione che gli amministratori pubblici riservano ai piccoli cittadini, che saranno, è bene ricordarlo, la classe dirigente di domani. In paesi come l'Austria, la Germania, la Svizzera, ma anche in regioni come il Trentino o l'Emilia Romagna, da anni ai bambini è dedicata grande attenzione. Non a caso, ad esempio, nei ristoranti e in molti luoghi pubblici è normale trovare seggioloni o fasciatoi. I parchi pubblici sono numerosi e ben incurati, le piste ciclabili sono una cosa normale e i bambini che vogliono tirare due calci ad un pallone non sono costretti a farlo in una piazza e magari tra le auto, ma in campi in erba aperti a tutti, in spazi all'aperto dotati di ogni comfort. Nella provincia etnea la campagna elettorale non si è conclusa, anzi a giorni sarà ancora più intensa, a metà giugno, come sapete, si vota per il comune e la provincia. Un esercito di candidati è pronto a scendere in campo. Per molti una specie di concorso pubblico. L'elezione significa assicurarsi uno stipendio per i prossimi cinque anni. Un invito ai candidati alla carica di sindaco e a quelli che aspirano a diventare presidente della provincia. Sottoscrivete un contratto con i piccoli cittadini impegnandovi a trasformare gradualmente la città e la provincia in un luogo a misura di bambino, che oggi assiste passivamente a tutto quello che succede, ma che domani avrà modo di manifestare la sua approvazione o disapprovazione in forme e modi differenti per le scelte che hanno compiuto gli adulti. Un caro saluto da Antonello Zitelli.